eccoci allora riprendiamo l'esercizio di ieri cerchiamo di portarlo al termine o quasi stavamo lavorando sul punto 4 dove ci siamo posti il punto 4 e 5 in realtà ci siamo posti la domanda su cosa voglia dire o se possano esistere dei voti duplicati all'interno del libretto questo si è portato a definire un criterio di uguaglianza attraverso la funzione equals per l'oggetto di tipo voto e abbiamo deciso che noi consideriamo due oggetti voto uguali se sono relative allo stesso corso perché abbiamo ragionato sul fatto che non possono esistere nello stesso libretto ovviamente due voti diversi distinti allo stesso corso quindi o sono coincidenti i due oggetti voto relativi allo stesso corso oppure si è un errore quindi una anomalia allora questo va beh c'è permesso essenzialmente di implementare questo metodo cerca esame per cui dal nome del corso posso estrarre quale fosse l'oggetto voto corrispondente a quel corso chiamando questo metodo equals che abbiamo definito la a livello di voto e poi abbiamo fatto un lavoro simile per l'altra l'altro metodo che si chiede se esiste già un certo voto allora io prima di andare avanti testare questi metodi volevo osservare che questo codice qui è inutile nel senso che noi dobbiamo abituarci a smettere di pensare di usare diciamo così le strutture date a java ma ragionare come in c in cui c'hai un array ogni volta che devi fare qualche cosa te lo devi scandire devi andare elemento per elemento allora andiamo di cicli forno i dati eccetera eccetera si può fare però è un modo per prenderci noi carico della complessità questa semplice però la complessità di ricercare di diciamo di navigare all'interno delle strutture dati allora ricordiamoci che tutte le collection in java alla fine li possiamo pensare come degli insiemi degli insiemi è un insieme adesso poi c'è un tipo di dato set ma anche una lista è un insieme che contiene degli elementi la lista ha una caratteristica particolare che può mantenere gli elementi ori ordinati quindi altri linguaggi programmazione anziché lista la chiamerò sequenza c'è una sequenza di elementi ma ci sono le librerie già definisco delle operazioni più di alto livello su queste sequenze quindi cercare un elemento sapere se un elemento c'è o no è già una funzione di libreria si chiama index.of conoscete list.index.of di dai un oggetto e ti restituisce la posizione in cui si trova questo oggetto poi ovviamente internamente cosa farà questa funzione index.of questo ciclo qui però non me lo devo inventare io ok quindi abituiamoci a cercare di ragionare non tanto adesso faccio un indice scaldisco la lista eccetera ma qual è l'operazione di alto livello che stiamo cercando di fare dato un elemento trovare se esiste se è presente nell'elemento in realtà i metodi che fanno questo sono due contains e index.of contains mi dice se un elemento è contenuto o no o meglio se una lista contiene o no un elemento dopodiché non mi dice dov'è non mi dice qual è mi dice solo se c'è o no index.of mi dice qual è la sua posizione e quindi posso evitare di fare questo lavoro poi per alto operazioni esistono i metodi per fare l'unione di due liste add all si chiama esistono metodi per fare la sottrazione di due liste remove all dato una lista remove all un'altra cancella dalla prima lista tutti gli elementi che sono nella seconda esistono metodi per fare l'intersezione si chiama retain all cioè cancella tutti quelli che non sono anche in questa lista e cose cose di questo genere ma qui dobbiamo cercare un attimo di sforzarsi di conoscere un pochino la potenzialità delle strutture dati che abbiamo qui ho tirato fuori la documentazione dove tutti questi metodi ci sono vedete che qua a livello di lista abbiamo un index.of che ritorna l'indice della prima occorrenza dell'elemento specificato ci dice la definizione che è quello che stiamo facendo con quel ciclo for così come il contents fosse addirittura sopra eccolo qua è direttamente a livello di collection qui c'è un metodo contents che dice ritorna vero se la collezione in questo caso la lista contiene l'elemento specificato oppure no quindi un boolean qui ogni volta che dobbiamo fare un'operazione sulla struttura dati chiediamoci se in realtà questa operazione non sia già definita e cerchiamo di usare i metodi che ci sono già che sono sicuramente più ottimizzati dei nostri ricordiamoci che ogni riga di codice che non scrivo è una riga di codice in cui non ci può essere un errore quindi meno scrivo meglio è più uso la potenzialità del gioco che c'è oltre al fatto che è probabilmente più efficiente ma sicuramente più corretto di quello che scriviamo noi gli altri metodi che vi ho accennato prima sono ADDOL che di fatto fa l'unione di due strutture date ad una aggiunge tutti gli elementi che sono già nell'altra insimisticamente la potremmo chiamare unione il remove all non lo vedo ma forse è solo un problema di occhiali e un retain all neanche ma so che ci sono vabbè eccoli qua vabbè eccoli qua remove all che elimina da una lista tutti gli elementi una lista o una qualunque altra struttura dati tutti gli elementi che sono presenti in un'altra lista quindi fa la sottrazione da questa lista cancellami questi altri oppure ovviamente ne cancello uno solo da solo e cose simili quindi ci sono tutti già gli elementi le funzioni, i metodi che ci possono servire nei nostri casi quindi questa parte qua io la butto via cioè questo cerca esame non è altro che usare posso benissimo implementarlo come voti.indexOf vedete che c'è un indexOf e un last indexOf a seconda che vogliamo iniziare a cercare dall'inizio o iniziare a cercare dalla fine in questo caso speriamo che ce ne sia uno solo quindi è indifferente e gli passo l'oggetto cosa vuole l'indexOf e qui cominciamo a imparare un altro trucco l'indexOf vuole un oggetto dello stesso tipo degli oggetti che sono inseriti nella lista quindi vuole un voto l'oggetto voto da cercare e mi istituisce la posizione di questo oggetto voto all'interno della lista ma questo oggetto voto noi ce l'abbiamo? no anzi lo stiamo cercando stiamo cercando qualunque oggetto voto che abbia la caratteristica di avere quel nome corso il metodo indexOf è generico quindi non può sapere qual è il campo che deve andare a cercare chi è che sa qual è il campo che deve andare a confrontare? equals l'abbiamo implementato che vada a confrontare i campi nome corso quindi qui quello che possiamo fare è passare al metodo indexOf un oggetto parzialmente costruito cioè io del voto che sto cercando non so niente tranne il nome del corso allora mi costruisco un oggetto che ha dentro dei dati fasulli tranne il nome del corso che invece è giusto ok? tanto io so che l'indexOf l'unica cosa che fa e chiama ripetutamente il metodo equals e il metodo equals andrà a vedere solamente il nome del corso quindi i campi che io non valorizzo all'interno dell'oggetto non verranno mai consultati può sembrare una mezza porcata però lo faremo spesso quando dovremo cercare dei dati che ne sono da un database non li sappiamo tutti prima di cercarli non li conosciamo però può far comodo il dato o i dati che conosciamo metterli nell'oggetto che poi li dovrà contenere alla fine un oggetto dello stesso tipo così abbiamo anche un'uniformità di interfaccia quindi quello che sto dicendo è che questo oggetto voto che io sto cercando se lo posso costruire costruire un nuovo oggetto voto il costruttore mi richiede il numero di voto il corso e la data il numero del voto posso mettere zero il corso invece è questo il nome esame e la data è un oggetto possiamo mettere null non ci interessa quindi sto costruendo un oggetto voto che è malato è incompleto ma mi serve solamente come criterio di ricerca per l'index of che ha bisogno di un oggetto del quale consulterà solamente il campo nome esame allora ci può sembrare un po' strano che dico ma io sto cercando se nella lista c'è un oggetto index of un oggetto uguale a questo e l'oggetto che gli passo come confronto non somiglia per nulla a uno dei nostri voti noi ne abbiamo mai preso zero in realtà quando io dico lui cerca se c'è già nella lista un oggetto uguale a questo il concetto di uguale e lui ce l'ha solamente col metro equals e quindi vede solamente il nome del corso quindi a volte uno deve fare operazioni di questo genere per poter sfruttare diciamo così metodi esistenti che hanno un'interfaccia di un certo tipo dimmi c'è una domanda le mappe non le conosciamo ancora le facciamo le facciamo l'ora dopo il problema è che il mappo potesse diverne più di una perché lo cerchiamo sia per nome che per data che per voto in questo caso stiamo ragionando solamente sulle liste ma ciò che diciamo sulle liste vale per tutte le collection quindi in generale ok posizione dopodiché una volta che ho la posizione la possibilità è che la posizione cioè l'oggetto non sia stato trovato e allora in questo caso index.of mi restituisce meno 1 bruttissima questa interfaccia che restituisce meno 1 come metodo però è fatto così quindi se mi restituisce meno 1 vuol dire che l'oggetto non è stato trovato e allora ritorno null come facevo qua altrimenti ritorno un oggetto qual è l'oggetto io non so dove qual è l'oggetto ma so qual è la sua posizione quindi lo posso andare a pescare facilmente get posizione pose allora non sono tante righe in meno rispetto a prima ma abbiamo fatto lo sforzo di usare delle interfacce di più alto livello che non andare a pescare ad analizzare a mano direttamente i singoli dati perché è un esempio molto semplice che però ci permette di ci aiuta ad entrare nella filosofia ok questo conclude essenzialmente ciò che dovevamo fare per il punto 4 avevamo un metodo che controlla se esiste già un voto quindi come prima cosa chiama cerca esame il quale ti restituisce l'oggetto voto con lo stesso corso e poi a seconda che sia stato trovato o no e a seconda che nel caso in cui sia stato trovato il punteggio sia uguale o no restituisce vero o falso questo l'abbiamo già visto insieme ieri anche qua questa chiamata cerca esame ho l'oggetto voto dall'oggetto voto ne prendo il corso cioè il nome e poi da questo nome costruisco un altro oggetto voto fasullo è un giro un po' inutile quindi anche qua probabilmente potrebbe essere più comodo usare un index of direttamente passando direttamente l'oggetto in questo caso abbiamo l'oggetto è molto più frequente avere un oggetto che contiene dei dati che non avere i dati sparsi come in questo caso la stringa anzi impariamola un po' come lezione cerchiamo di non passarci mai in giro i dati sparsi perché poi diventano più difficili da gestire che non oggetti che contengono a loro volta i dati quindi volendo potrei ridefinire anche questo nello stesso modo dire che cerchiamo la posizione del voto v questo è ancora più naturale da fare perché abbiamo già il parametro v voti.index of v allora o c'è o non c'è se non c'è ritorna null ritorna non null scusate il testo dice che se non ha trovato il corso ora deve essere falso la documentazione si dice così se non ha trovato il corso questo dice falso altrimenti cosa devo fare altrimenti devo andare a controllare i voto il voto di chi? il voto di v rispetto al voto di l'elemento che si trova nella posizione pose quindi vado a controllare se v.get punteggio get punti che è un intero è uguale quindi qui uso l'uguale perché sono degli interi non devo usare equals a che cosa? a il voti.get di posizione cioè il voto che si trova nella posizione che abbiamo appena trovato punto get punti se sono uguali se sono uguali ritorna vero altrimenti ritorna falso è simile a questo chiaramente che avevamo sotto ma non ci serve più quindi è solo il caso particolare in cui potrebbe non trovare il voto ma se lo trova sono sicuro che ho un elemento nella lista che ha lo stesso nome corso il punteggio potrebbe essere uguale o diverso e lui mi dice se è uguale o diverso in realtà qui abbiamo un costrutto che è di questo tipo if se qualcosa è vero ritorna vero se quel qualcosa è falso ritorna falso quindi in realtà ciò che sto ritornando vero o falso è esattamente il valore di verità del pezzo di codice che è evidenziato adesso in blu quindi sto facendo un giro inutile ok se mi dici sì scrivo sì se mi dici no scrivo no allora faccio più in fretta a dire scrivo così come dici ritorno direttamente questo al posto di questo if ci sta benissimo un return che ritorna il valore di verità di questa uguaglianza quindi sarà vero se questa uguaglianza è vera sarà falso se questa uguaglianza è falsa quindi buttiamo anche via un paio di graffe come dicevo ieri nell'ultimo l'ultimo minuto della lezione metà del codice che avevamo scritto era inutile ok ok allora funzionerà perché poi l'altro problema è questo come sempre dobbiamo aggiungere dei test andiamo a verificare se esiste già un voto noi sappiamo quali sono i voti nel libretto allora facciamo due test uno dei quali che testino questa funzione che abbiamo appena creato la funzione esiste già un voto andando a passargli due voti che ne so giusto uno giusto che sappiamo che esiste new voto di ad esempio geometria devo passargli il voto giusto quindi 18 e con una data qualunque metto now mi da la data di oggi punto e virgola oppure oppure un voto mi aspetto che restituisca falso in cui di geometria ho preso invece 28 metto una data qualunque perché tanto non la sto usando la data uguale quindi io mi aspetto che se gli passo il voto giusto la funzione mi restituisca vero se gli passo il voto sbagliato la funzione mi restituisca falso allora verifichiamo stampiamo questo controllo ad esempio diciamo che il voto per cento s è vero o falso quindi prima gli do il voto giusto e poi ti restituisco giusto punto tu stringo ovviamente e poi il secondo parametro il valore di ritorno della funzione quindi il libretto punto esiste già il voto giusto e poi la stessa cosa la faccio con il voto che ho chiamato sbagliato quindi mi dovrà dire che il voto 18 geometria è true e il voto 28 geometria è false poi in realtà dovrei crearne ancora un altro che proprio non esiste perché in realtà la mia funzione ricordiamoci che quando l'abbiamo documentata abbiamo ragionato su come dovesse funzionare può trovarsi di fronte a tre casi il voto non esiste esiste e dal punteggio uguale esiste dal punteggio diverso quindi dovrei aggiungere anche un voto mancante un nuovo oggetto voto in cui ho preso 30 di merendine in qualunque giorno e dovrebbe dirmi anche che il voto mancante è falso ok allora se è giusto con ciò che abbiamo fatto eseguendo questo programma ci dice allora questo ovviamente erano le stampe già precedenti tutti i voti pari 25 il voto di un'esì 1 il voto di analisi 3 che non esisteva quindi stampava null e queste sono le tre cose nuove 18 geometria true 28 geometria false 30 merendine false quindi si comporta come dovrebbe non sempre funziona giusto al primo colpo ci è andato abbastanza bene quindi a questo punto diciamo che il punto 4 l'abbiamo finito quindi ci facciamo un nostro commit in cui diciamo che abbiamo completato il punto 4 ricordiamoci da ieri che stiamo lavorando non nel master ma dentro un branch branch punto 4 e quindi adesso il nostro dategli tempo di fare push il nostro progetto ha due biforcazioni diverse una un pochino più corta l'altra un pochino più lunga cioè abbiamo noi siamo all'interno adesso del branch punto 4 mentre invece chi è sul master è indietro di due revisioni quindi chi sta lavorando ancora nel branch master non vede tutto ciò che abbiamo fatto sul punto 4 quindi di fatto ci sono due versioni del progetto quella master e quella punto 4 adesso ciò che vorremmo fare è dire va bene visto che sul punto 4 abbiamo testato funziona reintegriamo le modifiche all'interno del master ci sono due casi il caso semplice è quello in cui siamo noi in cui il master nessuno l'abbia toccato allora di fatto significa semplicemente prendere quell'etichetta master e spostarla avanti dicendo ok il nuovo master adesso è dove siamo arrivati c'è il caso ci stiamo lavorando solo noi e quindi sarà il caso probabilmente normale se però qualcun altro visto che il git serve per lavorare in gruppo avesse usato il master per andare avanti adesso avrei due direzioni diverse in cui il progetto è evoluto allora l'operazione di conciliare due branch non sarebbe più così indolore dovrei andare file per file a vedere se un file è stato modificato da due persone diverse quali sono le modifiche che devono sopravvivere oggi per fortuna non ce ne dobbiamo occupare come si fa questa operazione di fusione o riconciliazione di branch è facile basta portarsi sul branch che deve ricevere le modifiche quindi in questo caso il branch master come faccio a portarmi su un branch sempre col metodo switch to questo metodo switch questa voce switch del menu sempre sotto team mi può permettere o di creare nuovi branch come abbiamo fatto prima oppure di riportarmi su un branch esistente vado su master e dopo un attimino di panico perché lui dice ha sparito tutto ciò che avevo scritto no perché lui ha riportato la versione dei file esattamente a come erano nel branch master precedente infatti adesso ho evidenziato qua in grassetto master per dire guarda che tu sei qua adesso e allora noi possiamo fare un'operazione di fusione merge di che cosa? di un branch punto 4 all'interno del branch locale l'operazione di merge permette di prendere un altro branch i contenuti di un altro branch e fonderli unirli a quelli del branch attuale in cui mi trovo quindi sto prendendo dal branch punto 4 per mettere nel branch master e poi gli dico di questa operazione qua voglio fare poi un commit perché voglio salvare il fatto che l'ho modificato lui nel gergo di git quando dice che l'operazione è un fast forward perché dice che non è stato modificato il master quindi basta semplicemente mandare avanti l'etichetta master non devo fare del lavoro vero e proprio altrimenti ti direbbe che devi fare un merge vero e proprio e quindi vediamo che abbiamo master e punto 4 che adesso sono allineati puntano entrambi all'ultima versione chi è rimasto indietro è l'origin cioè il remoto perché finora questa operazione l'ho fatta tutta in locale devo allineare per allineare il remoto dovrò fare anche un push qua si vede c'è una frecciolina con scritto freccia in su 2 questo mi indica che il master su cui sto lavorando è 2 commit più avanti rispetto al remoto quindi mi ricorda che magari se volessi potrei fare un push per allineare entrambi e infatti fa il push di questi 2 commit che hanno rimasto in sospeso ma voi dite ma non abbiamo appena fatto il push si l'abbiamo fatto nel branch punto 4 su origin non ancora sul master perché ogni branch fa storia a sé sia in locale sia in remoto e adesso è tutto allineato e quindi posso andare avanti con i punti successivi quindi questo metodo lo potrei replicare potrei creare un branch punto 5 in cui lavoro per il punto 5 e quando l'ho fatto lo reinintegro nel master e vado avanti così all'inizio sembra un pochino macchinoso ma poi alla fine è abbastanza veloce e soprattutto ti permette di passare avanti e indietro ma prima funzionava cosa ho fatto? allora torno il branch indietro vai avanti confronti e puoi vedere le differenze ok andiamo avanti magari più senza dover fare ogni volta il branch un pochino più rapidamente allora il punto 5 verificare se esiste un conflitto con il libretto c'è lo stesso esame e il voto diverso allora questo metodo è una varazione minima di quello che avevamo già perché esattamente questo metodo come si chiamava esiste già il voto quando è che c'è un conflitto? è quando abbiamo lo stesso corso e voti diversi quindi se il corso non c'è è un conflitto? no se il corso c'è e ha lo stesso voto è un conflitto? no se il corso c'è e ha un voto diverso è un conflitto? sì quindi nel caso in cui se chiamiamo questo metodo voto in conflitto nel caso in cui il voto non esiste questi due si devono comportare uguali nel caso in cui il voto esiste invece deve restituire il valore opposto a questo e questo diceva true se i voti erano uguali ma in realtà se i voti sono uguali non è un conflitto quindi deve restituire falso quindi il metodo che si chiede se esistono dei voti in conflitto è molto simile alla negazione di questo tranne il caso particolare in cui il voto non esiste in cui in entrambi i casi devono restituire falso quindi facciamo una piccola variazione di questo voto in conflitto che lo ricopio uguale a questo e ci metto diverso in schede quale quindi questo metodo mi dice se il voto vi è in conflitto con uno dei voti esistenti se il voto non esiste non c'è conflitto se esiste e da punteggio diverso c'è conflitto quindi mi restituisce true se il voto non esiste no scusate true è conflitto c'è un conflitto sì se il voto esiste e da un punteggio diverso mentre restituisce falso se il voto non esiste oppure esiste ma ha lo stesso punteggio è una leggera sua matura no? e allora possiamo nei nostri test riusare ciò che abbiamo già fatto e vedere chiaramente qual è il comportamento di questa funzione quindi noi avevamo il voto giusto sbagliato e mancante quindi aggiungiamo queste tre è in conflitto sì o no quindi aggiungiamo il conflitto nei messaggi e nel metodo non chiamiamo il metodo esiste già vuoto ma vuoto in conflitto uno due e tre qui ci sono ok quindi in teoria per il voto di geometria non c'è conflitto perché il voto punteggio è uguale per quest'altra geometria 28 invece c'è un conflitto per invece il corso di merendine non c'è conflitto e così via questi metodi ci servono di riscaldamento per il punto successivo che ci dice che dobbiamo modificare il metodo add in modo da evitare di inserire delle valutazioni duplicate o in conflitto cioè se io cerco di aggiungere un voto che esiste già non lo deve aggiungere perché è inutile avere due volte lo stesso voto se cerco di aggiungere un voto che è in conflitto con uno che esiste è peggio ancora non voglio avere nel libretto righe duplicate né tantomeno righe che dicono cose diverse allora il mio metodo add deve rifiutarsi di aggiungere più volte un elemento che già c'è ma adesso abbiamo tutti gli elementi per poterlo fare nel senso che quando si cerco di aggiungere un voto se esiste già o sei in conflitto non faccio nulla se no lo aggiungo normalmente e quindi il mio ricordate quando dicevamo il metodo add è semplicemente un metodo che delega delega perché era stupido adesso lo stiamo cercando di far diventare un pochino più furbo delega la lista sottostante l'aggiunta dell'elemento solo se ha fatto una certa serie di controlli che rendono il libretto convinto che questo elemento possa essere aggiunto correttamente e se no quindi se il voto non esiste già e non è in conflitto aggiungilo quindi l'add lo posso fare solamente se esiste già mi dice falso e conflitto mi dice falso allora in questo quadro lo aggiungo in realtà se vado a ragionare che il suo posto si sta di dentro basterebbe chiedermi se il contents se la vista contiene già il voto o no ma qui almeno ragioniamo su qualche cosa che ha già un significato più più alto se no cosa devo fare else il testo mi dice l'aggiungilo solo se sono verificate queste condizioni vabbè questo è facile e poi se non aggiunge il chiamante il programma che ha chiamato questa funzione deve sapere che non è riuscito ad aggiungerlo o no deve sapere che si è verificata una condizione anomala o no sì lo sappiamo la risposta come possiamo comunicare al chiamante che qualcosa è andato storto in due modi o con un valore di ritorno che a questo punto non sia più add quindi ritorno un booleano che mi dice sì l'ho aggiunto o no non l'ho aggiunto quando faremo con le operazioni con il database abbiamo i metodi che ci diranno quante righe del database sono state aggiornate quindi andiamo a controllare che questo valore sia diverso da zero ad esempio o sia pari a quello che ci aspettavamo quindi restituiamo un valore che ci dica se l'operazione è andata a buon fine oppure quindi questo non diventa più un void diventa un boolean e quando ho fatto aggiunto aggiungi voti.add l'ho fatto return true aggiungo return true per dire sì l'ho fatto altrimenti qua scriverò un return false al posto dei punti erogativi per dire non sono riuscito a farlo in questo modo però ribaltiamo la responsabilità sul controllo dell'errore al buon cuore di chi chiama questo metodo che deve lui ricordarsi di controllare il metodo ad delle liste cosa fa copiamo boolean perché visto che qua stiamo implementando un ad andiamo a vedere chi è più bravo di noi che ha implementato degli ad e copiamo le scelte che ha fatto lui ha scelto di fare un'eccezione o di restituire un valore vediamo un po' cosa ci dice list.add ritorna un boolean e con il resto boolean true è stato un po' restituisce sempre true perché restituisce sempre true? beh perché lui mi dice che restituisce true se questa collection è cambiata come risultato della chiamata è scritto in modo strano dice se è cambiata cosa? cioè se ho aggiunto un elemento a un metodo add allora restituisco true se la collection non è cambiata dice questo è il metodo add della classe collection da cui derivano tutte le list ok? se la collection non è cambiata allora ovviamente non c'è scritto ma per differenza restituisce falso allora il metodo che implementa la list.add restituisce sempre true perché quando aggiungo un elemento a una lista lo posso sempre aggiungere se questa non è che una lista fosse un insieme ad esempio o una mappa dove non si sono accettati i duplicati allora è possibile che lo studiisca vero se ha aggiunto l'elemento oppure falso se non ha aggiunto l'elemento perché già c'era allora chi ha implementato questa collection ha ritenuto importante dare l'informazione se l'elemento è stato aggiunto o no ma non considerarlo errore noi possiamo copiarli fare la stessa cosa poi questa informazione se a chi sta sopra interessa bene se a chi sta sopra non interessa non la andrà a controllare se invece considerassimo l'operazione un errore che deve essere controllato allora generiamo un'eccezione così obblighiamo il chiamante a gestire l'eccezione e se si dimentica di gestirla il programma si schianta mentre qua se si dimentica di gestirlo l'anomalia il programma prosegue tranquillamente con un valore falso che nessuno andrà a controllare nessuno leggerà allora se facciamo così copiamo visto che abbiamo detto è un metodo che in qualche modo incarta no impacchetta il metodo ad esistente cerchiamo di dare un'interfaccia il più possibile uguale a quello del metodo ad esistente riduciamo il carico cognitivo di chi usa il metodo e quello è un hub si comporta come tutti gli altri di questa terra cosa accetta e cosa restituisce se lo volessimo far comportare diversamente lo chiameremo in un modo diverso e quindi devo dimmi che il return true nel caso normale mentre ritorna false se non è riuscito ad aggiungere il voto perché non è riuscito lo sappiamo sono quei due test lì ok per testare questi dovremo provare ad aggiungere questi voti questi che abbiamo prima detto non ci sono non ci sono dovremmo aggiungere il voto che ho chiamato giusto me lo deve aggiungere no poi devo provare ad aggiungere il voto che aveva andato in conflitto l'ho sbagliato me lo deve aggiungere no e poi devo provare ad aggiungere il voto mancante che questo invece me lo deve aggiungere vediamo se è giusto dopo che ho provato ad aggiungere queste cose proviamo a stampare no il libretto non ha il tool string scusate vabbè aggiungiamolo dai se no diventiamo pazzi libretto string non ce l'ha ma glielo aggiungo dicendogli che mi istituisca la stringa dei voti e poi ovviamente di questi qua mi interessa vedere se lui ha restituito correttamente le variabili cioè il valore falso falso e vero rispettivamente e poi e poi vediamo la stampa e verifichiamo che sia stato aggiunto il voto di merendine e invece di geometria non sia cambiato nulla rispetto a prima allora falso falso vero quello che ci aspettavamo e questo è il libretto di prima geometria c'è nella data del 2017 non nella data now quella di oggi che avremmo invece avuto nell'oggetto nuovo e in coda al libretto non abbiamo il corso di geometria ma abbiamo il corso di merendine in data di oggi punti 30 ok quindi abbiamo potenziato il metodo add in modo da rifiutare l'inserimento di dati errati se qualcuno prova a inserire dati errati il il libretto fallisce silenziosamente cioè non lo fa senza dire nulla senza arrabbiarsi questa è una scelta che abbiamo dato vabbè facciamo un commit siamo punti 5 e 6 non abbiamo fatto giusto? sì 5 e 6 mi sono perso ok adesso il punto 7 creare un libretto migliorato in cui ciascun voto maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto e ciascun voto maggiore o uguale di 24 viene incrementato di due punti ovviamente senza superare il 30 tenere separati i due libretti e stamparli entrambi allora non ti sta dicendo modifica il libretto attuale ti sta dicendo crea un altro libretto che ottieni prendendo il libretto attuale e facendogli delle operazioni quindi la classe libretto dovrà avere un metodo che permette di creare diciamo un libretto derivato migliora cosa da far vedere a casa no? con i voti un pochino più alti ok? beh è facile nel senso che aggiungerò un altro metodo public cosa restituisce? un nuovo libretto libretto migliorato un metodo libretto migliorato che restituisce un nuovo libretto poi il chiamante avrà i due libretti quello di partenza e quello migliorato e poi farà ciò che vuole come devo costruire questo libretto migliorato? copiandoci i voti dentro e incrementandoli vabbè allora vorrà dire che l'ho il libretto migliorato devo crearlo quindi libretto nuovo uguale new libretto quindi io classe libretto anzi oggetto della classe libretto sto creando un altro oggetto della classe libretto vabbè va bene posso farlo e sto popolando quest'altro oggetto della classe libretto con una copia dei miei valori quindi dentro questa classe libretto cosa farò? aggiungerò i voti esistenti la cosa più semplice ne faccio un uguale e poi vado a troccarlo ok? allora posso prendere tutti i voti che ho io di spunto voti scusate for voto vi nei miei voti lo aggiungo e poi quindi ho fatto una copia del libretto in cui ho aggiunto gli stessi voti quindi fino a questo momento i due libretti contengono gli stessi voti poi solamente sul libretto nuovo vado a incrementare i voti quindi for il nuovo voto vi non questo punto dis ma nuovo punto voti cosa faccio? v punto set punteggi punti di v punto get punti più uno facciamolo solo così per adesso no? poi lo sistemiamo non è solo più uno devo fare più uno oppure più due però questa riga qua la modifichiamo poi per capire la filosofia ho copiato i voti e poi dei voti nuovi non quelli del libretto precedente di quelli di quello nuovo incremento tutti di uno allora qui ho fatto una cosa un po' strana no? che sono andato a prendere una variabile privata di un oggetto che non sono io perché io sono this ho creato un nuovo oggetto ma poiché quell'altro oggetto è della mia stessa classe ho accesso anche sui campi privati quindi è giusto che sia la classe libretto poter fare queste operazioni perché ha accesso molto più diretto ai campi privati della classe libretto stessa di un'altra istanza della classe libretto normalmente noi se se io questo codice qua l'avessi messo in un'altra classe che non è la classe libretto qua avrei avuto un errore perché voti è un campo privato quindi privato significa accessibile non ai metodi della stessa istanza ma significa ai metodi della stessa classe di istanze della stessa classe è una scorciatoia che ci evita di dover aggiungere un metodo in più dentro il libretto semplicemente per incrementare il voto questa cosa qua non la potrei fare da fuori di questa classe dall'esterno di questa classe dentro la posso fare si farà la mente no perché però è possibile allora andiamo a vedere se funziona alla fine cosa faccio? restituisco il nuovo libretto migliorato e quindi posso dal mio programma chiamante confrontare il libretto vecchio con il libretto nuovo fin qua ci siamo? allora nel mio test posso finalmente dire un libretto migliore non è altro che il libretto migliorato e quindi possiamo stampare uno sotto l'altro il libretto e il libretto migliore mettiamo qualche messaggio se non ci perdiamo quindi così vedo sotto l'altro sotto l'altro i voti di prima e i voti di dopo e dovrei vedere gli stessi esami identiti le stesse date ma nella riga sotto un voto in più poi adesso andiamo a sistemare questo più 1 col più 2 eccetera cominciamo a testare questo e cosa vuoi che non va printl? no non c'è infatti printl line si allora questo è il libretto vecchio questo è il libretto nuovo le ultime due righe dove si vede che nel libretto vecchio i voti sono cambiati e non dovevano se io mi aspettavo che di vedere analisi 1 30 è nel libretto vecchio e 31 è nel libretto nuovo questo 31 è giusto il 22 è giusto ma nella riga sopra ho stampato la cosa giusta si ho stampato il libretto punto to string qua sotto cosa c'è che non va? abbiamo non abbiamo abbiamo copiato i riferimenti agli oggetti precedenti come l'operazione di add abbiamo fatto in modo che il libretto nuovo contenesse una lista la quale contiene gli stessi voti ma gli stessi oggetti voto del libretto precedente quindi quando modifico una lista quando modifico un elemento di una delle due liste sto in realtà modificando anche l'elemento dell'altra lista ma non è che sto modificando anche cioè è lo stesso io ciò che voglio qua in realtà sarebbe disaccoppiare l'errore che ho fatto e sono riuscito a convincervi che era giusto perché nessuno si è lamentato a questo punto è stato qui sì ho preso lo stesso oggetto del libretto vecchio e l'ho usato come voto del libretto nuovo però a questo punto i due libretti condividono lo stesso oggetto voto se cambio se lo cambio in un libretto si vede cambiato anche nell'altro questo va bene uno se è ciò che voglio cioè se li voglio mantenere collegati ma io non lo voglio in questo caso oppure due questa operazione qua si fa tranquillamente se noi immaginiamo che i voti siano una quantità immutabile cioè se l'oggetto voto non avesse nessun setter una volta che è creato non lo cambi più non c'è nessun problema a condividerlo se però è un oggetto mutabile cioè anche dei metodi di set allora dobbiamo fare attenzione ogni volta che lo condividiamo lo riusiamo e ci dobbiamo chiedere io voglio copiare un riferimento o copiare una copia un clone di quell'oggetto voglio che l'oggetto sia lo stesso lo riuso e ho modi diversi per arrivarci oppure siano due oggetti che quando nascono sono uguali ma poi ognuno va per la sua strada in questo caso la seconda come posso fare? eh cosa mi manca qua? mi manca una new qui dovrei scrivere new voto in cui gli passo nel costruttore il voto preso da dove? preso da v.get. v.get.corso v.get.data cioè prendo v nello spacchetto nei suoi componenti e ricostruisco un altro oggetto che ha gli stessi valori in questo modo ho creato un clone dell'oggetto precedente e allora modificando qua sotto i campi degli oggetti nuovi quegli oggetti precedenti non dovrebbero più essere influenzati e così è vedete 30 31 21 22 eccetera eccetera quindi un'altra questione è l'inverso di quanto dicevamo ieri quando chiedevamo ma io ho aggiunto dei nuovi ho fatto è stata una sottolista quanti voti nuovi ho creato nessuno perché ho riusato gli stessi ecco qua invece ne voglio proprio creare dei nuovi devo essere sempre consapevole se sto creando un'altra struttura dati che riusa agli stessi oggetti oppure sto creando una struttura dati che fa gli oggetti nuovi clona gli oggetti esistenti allora questo è un modo è un modo abbastanza antipatico di fare questa operazione più semplice sarebbe chiedere alla classe voto fammi tu una copia di se stesso perché di nuovo c'è sempre il solito discorso che se dovessi aggiungere un quarto campo al voto tipo il numero di crediti devo andare a cercare tutti i punti in cui l'ho usato io qui sto usando dei campi che in realtà sto elencando dei campi che non mi servono perché prima era puntissimo questo codice perché non facevo nessun riferimento all'interno di voto adesso sono dovuto entrare e chiedermi come ha fatto voto per poterne fare un clone allora la cosa giusta da fare in realtà è dire a voto stesso fatti un clone clonati e allora possiamo presupporre che il voto sappia com'è fatto e quindi lui ritorna un nuovo se stesso in cui ci siano ovviamente il voto dis.corso e dis.data quindi quando vogliamo fare questo la cosa normale corretta da fare è dotare l'oggetto di un metodo clone attraverso il quale l'oggetto fornisca lui stesso una copia nuova con gli stessi valori punti un intero corso è un oggetto data è un oggetto allora non è che il problema che avevamo con voto si ripete a livello degli oggetti contenuti dentro voto perché se qualcosa poi qualcuno va a modificare io ho un oggetto corso nuovo però quando sto creando questo nuovo corso sto riusando il riferimento all'oggetto data che avevo sul corso vecchio quindi non ho più un oggetto voto ne ho due ma entrambi usano lo stesso oggetto data e quindi in realtà dovrei fare la stessa cosa su data perché altrimenti modifico la data di un oggetto si va a modificare la data anche dell'altro oggetto questa operazione si chiama deep cloning cioè clone profondo cioè devo andare ogni volta fino a quando fino a quando non trovo che cosa dei valori primitivi int bene ho vinto o dei valori immutabili allora in questo caso sia string che local date sono immutabili per costruzione e quindi mi posso fermare non devo fare va già bene così se avessi usato già avuto il date invece avrei dovuto clonare anche l'oggetto data perché è mutabile quindi recentemente va molto di moda il fatto di creare oggetti più possibili immutabili che non ci creano problemi di riuso se andate a cercare non c'è nessun metodo per cambiare il valore di una stringa posso solo costruire una nuova a partire da quella esistente non posso sostituire il quarto carattere di una stringa rimpiazzarlo o cancellarlo Aden local date non lo conosciamo ancora bene ma funziona nello stesso modo quindi qua mi posso fermare altrimenti anziché dis.data avrei dovuto scrivere dis.data.clone semplicemente e poi sarà l'oggetto stesso a sapere come fare a clonarsi allora dentro il libretto noi ci semplifichiamo la vita scrivendo semplicemente v.clone più pulito più chiaro ciò che stiamo facendo ok tra l'altro questi due metodi il clone di v e il libretto migliorato che è una specie di clone anche lui perché fa un altro libretto con dentro dei dati che sono più o meno uguali dal punto di vista del chiamante sono metodi che creano un nuovo oggetto senza usare new perché qui prima avevo messo new vuoto e poi mi sono convinto che non era una buona idea perché la creazione di questo oggetto era un pochino più complessa del solito non bastava chiamare un costruttore e passandogli dei dati ma questa creazione doveva fare attenzione a non replicare i dati eccetera eccetera no? e quindi new è troppo stupido per creare oggetti e ce ne accorgeremo spesso new è troppo stupido per creare oggetti allora abbiamo bisogno di un metodo appositamente di una classe che sia in grado di creare oggetti di quella classe con delle caratteristiche in più con dei controlli in più i metodi che fanno questo lavoro come clone ad esempio o come questo libretto migliorato normalmente in gergo si chiamano metodi di factory factory methods un metodo una factory è un metodo che costruisce oggetti quindi io anziché costruirmi io il mio oggetto chiamo un metodo che lo costruisca per me in java effects quando abbiamo chiamato fxml loader lui non abbia fatto noi new della scena ce l'ha fatto lui quello è un metodo di factory che lo costruisce basandosi su un file xml eccetera eccetera quindi abbastanza spesso succede così che costruire creare un oggetto è rischioso se non lo creo con le dovute cautele non basta a volte avere i controlli dentro il costruttore perché il costruttore viene chiamato quando l'oggetto è già creato quindi troppo tardi quindi può solo piangere dare un'eccezione oppure creartelo lo stesso oggetto e invece qua possiamo avere il perfetto controllo perché nel metodo faccio che vuole e alla fine ritorna un oggetto nuovo quindi la new c'è ovviamente c'è nel chiamato e non nel chiamante ok allora questo funziona fatto così dicevamo quindi abbiamo una nuova questo new libretto creerà una nuova array list nella quale andranno a finire dei nuovi oggetti voto e quindi sono totalmente disgiunti indipendenti da quelli precedenti beh adesso dobbiamo semplicemente mettere a posto questa cosa qua int punti uguale get punti perché la logica è un pochino più complicata ma se quindi se punti è maggiore uguale 24 diciamo che se punti è maggiore uguale a 28 non devo fare niente allora facciamo se è maggiore uguale minore uguale a 24 minore di 24 devo incrementarlo di 1 altrimenti se punti è minore maggiore uguale a 24 ovviamente perché sono nell'ES è minore di 28 minore uguale a 28 perché 28 lo posso ancora modificare allora punti uguale punti più 2 se sono più piccolo di 24 sommo 1 se invece ero maggiore uguale a 24 ma minore uguale a 28 sommo 2 se sono maggiore di 28 non faccio niente perché se no scorderai il 30 e alla fine quindi vi punto set punti di punti quindi il 30 non è diventato 31 perché non poteva il 21 però è diventato 22 il 25 doveva entrare 27 non 26 quindi ho sbagliato qualcosa 28 diventato 29 non ho sbagliato qua ah 1 anziché 2 ho sbagliato ho dato a scrivere 21 diventa 22 25 diventato 27 28 diventato 30 e così via e l'ultimo passaggio vabbè quindi questo conclude il miglioramento del libretto facciamo il punto 9 prima dell'8 l'8 è più facile perché significa semplicemente andare a ripassare come si fa il sort e quello possiamo fare anche in un altro momento invece il 9 è simile a questo cancellare dal libretto tutti i voti inferiore 24 che è un meccanismo di miglioramento del libretto ancora un pochino più robusto di quello precedente qui i voti inferiore 24 li cancello da quale libretto? boh da quello quello che voglio quello precedente quello migliorato uguale sarà un metodo del libretto in corso allora questo cosa vuol dire? aggiungiamo un altro metodo di nuovo ops un metodo public cancella voti scarsi sul libretto in corso allora questo qua sarà facile no? semplicemente guardo i voti a 1-1 quelli che sono scarsi li cancello quindi for voto v 2 punti dis punto voti if v punto get punti minore di 24 come si fa a cancellare un elemento da una lista? list punto remove dis punto voti punto remove e gli posso passare o l'indice a cui ho trovato l'oggetto oppure l'oggetto stesso se lo va a cercare lui l'indice da solo in questo caso avendo usato un for abbreviato con l'iteratore non ho l'indice disponibile quindi gli passo l'oggetto e se lo va a cercare divino quindi questo era facile non devo ritornare nulla di nuovo perché sto modificando il libretto esistente non sto facendo una copia come prima ok allora proviamo ancora questo libretto pulito prendiamo migliore punto cancella voti scarsi quindi dopo che ho aumentato cancello ancora quelli in scarsi e vado a vedere se è cambiato disandefine forse perché non l'ho salvato ok allora cosa mi dice qua un metodo facile tre righe eravamo convinti che funzionasse invece mi genera un'eccezione chi mi aiuta a decodificare quello che è successo qua sto cercando di modificare il contenuto di una lista mentre la sto iterando e non si fa ok quando io ottengo un iteratore da una lista e la scandisco prometto di non modificare il contenuto della lista finché non ho finito l'iterazione quindi non posso aggiungere elementi non posso cancellare elementi e non è una promessa fatta così a parole perché lui me la fa mantenere se ci provo a non mantenerla mi castagno in questo modo allora cosa posso fare? cioè il problema è che non posso all'interno di un'iterazione che lavora su una lista cancellare l'elemento un elemento qualunque della lista stessa perché sennò poi l'iteratore non saprebbe più se devi andare avanti indietro cioè gli hai tolto l'elemento su cui è appoggiato come lo risolvo? però io devo cancellare questi voti allora ho due modi uno di dire ma ok creo una lista nuova in cui copio dentro solo quelli che non sono da cancellare quindi cambio la logica dico perché se il voto è maggiore uguale a 24 lo aggiungi una lista nuova e poi dis.voti uguale la lista nuova che ho appena creato quindi una lista che scandisco in lettura e man mano copio in una lista nuova quelli che e poi rimpiazzo oppure l'altro modo è salvarsi da parte quelli che voglio cancellare e poi cancellare tutti insieme che forse è più pulito forse è anche più lineare come ragionamento e ha il vantaggio che non va a se ne devo cancellare 10 non ne devo copiare 200 qui in termini di prestazioni sono una lista che contiene mille elementi se ne devo cancellare 10 mi conviene cancellarli se ne devo cancellare 900 mi conviene ricopiare solamente i 100 che sono da tenere quindi bisogna poi capire qual è più conveniente dei due metodi dal punto di vista delle prestazioni in un caso copio quelli da cancellare in un altro caso copio quelli da ma direi che perlomeno dal punto di vista del ragionamento la cosa più semplice è quella di dire prendiamo degli elementi da cancellare di voto e man mano che trovo dei voti da cancellare non li posso cancellare subito ma li salvo in questa lista e dopo che ho finito l'iterazione quindi al ciclo for concluso dirò alla lista di cancellare da se stessa tutti gli oggetti che sono nella lista cancellare di nuovo lavoro per insiemi mi faccio l'insieme di cui da cancellare e poi in un'unica istruzione li vado a cancellare tutti chiedo la lista di cancellare quindi in questo caso non ho più l'eccezione e se vado a vedere l'ultima versione del libretto il 30 ce l'ho poi il 22 in un'unica scomparso c'è il 27 di fisica 1 che era dopo il 30 l'ho tenuto il 19 di geometria è sparito e così via quindi modificare una collection si può fare se non la sto iterando altrimenti trovate questa cosa che tra l'altro ha un messaggio abbastanza sibillino perché si chiama concurrent exception concurrent modification exception concurrent non c'è niente di concorrente qua non stiamo facendo delle cose in parallelo più thread o cose complicate il nome dell'eccezione che se uno non la conosce l'ho voluta farla come esempio proprio perché così non ci spaventiamo e impariamo a leggere ciò che c'è scritto nei messaggi d'errore ok a parte il punto dell'ordinamento che è più semplice che poi rimandiamo a un momento successivo direi che questo esercizio qua lo possiamo considerare concluso vi chiedo solo di pensare a una cosa allora questo è diventato a questo punto il nostro libretto nel ragionamento MWC model view controller che abbiamo imparato a usare la settimana scorsa questo di fatto è un model diventa un contenitore di dati con tutta una serie di logiche noi abbiamo usato per fare un po' di ginnastica con le collection però lo possiamo vedere così ha le logiche di gestione del libretto quindi nulla ci vieta di costruire adesso un'applicazione grafica attraverso la quale possiamo richiamare queste funzioni ok quindi questo che adesso abbiamo sviluppato in un progetto a parte può diventare tranquillamente la classe libretto e la classe voto che l'accompagnano il model di un'applicazione JavaFX allora la cosa che non è per nulla banale e per questo vi chiedo un attimo di pensarci poi magari proviamo a condividere qualche possibile soluzione è come la facciamo sull'interfaccia grafica cioè noi abbiamo 8, 9, 10 funzioni da implementare dove le mettiamo in modo che sia intuitivo cioè noi sappiamo cosa fa il model provate un po' a disegnare ma anche solo carta e penne ecco come organizzereste le informazioni come presentereste il libretto come presentereste la funzione per inserire per ricercare per migliorare eccetera eccetera le cose che abbiamo fatto ci accorgiamo che non è per niente banale fare qualche cosa che non sia totalmente incasinato e incomprensibile poi in questo corso non abbiamo tempo di approfondire molto questo ma a livello così istintivo possiamo provare a fare qualche esperienza quindi io l'ho provata una ieri non mi è piaciuta la vorrei rifare e non ve la faccio ancora vedere ma non mi convince ancora modo per far capire cosa sta succedendo in questa interfaccia in modo da poter dare il programma grafico a una persona che non ha fatto tutte queste ore insieme a noi ma lo possa usare capendo cosa fa capendo dove agisce allora provate a fare questo tentativo di disegnare semplicemente in fxml o anche solo in carta e penna l'interfaccia da dare a questo model e poi lo riprenderemo la settimana prossima adesso facciamo un intervallo e poi ci occupiamo finalmente di funzioni e tabelle di hash nell'ora successiva grazie a tutti